Musica Bisognerà attendere luglio 2019 per il pronunciamento del TAR riguardo il nuovo ricorso della società intenzionata di insediare un mega impianto di compostaggio nell'area di Camporeale. L'attesa sentenza del Tribunale amministrativo è stata rinviata e il Comune di Ariano a questo punto ha tutto il tempo per provvedere a modificare il regolamento dell'insediamento PIP per scongiurare l'evenienza. Ma già nel Consiglio dell'8 giugno potrebbe essere un ordine del giorno aggiuntivo. Inizialmente gli amministratori, trattandosi di un impianto per il compostaggio della frazione umida, pur non dando mai un consenso, avevano voluto valutarne l'eventuale fattibilità. Avevano anche fatto visita ad un impianto simile per capirne meglio il funzionamento e chiesto pareri a diversi esperti, ma compresa la portata pari a 60.000 tonnellate di rifiuti e quindi di grosso impatto per l'ambiente e le aziende già insediate nel PIP, in termini anche di cattivi odori dovuti al trattamento aerobico, oltre allo scarso ritorno in termini di posti di lavoro, si parla di massimo 8 unità, l'ente aveva espresso un chiaro diniego attraverso una delibera di giunta e un decreto del dirigente del settore amministrativo. La società però aveva fatto ricorso, ma nel suo primo pronunciamento il TAR aveva dato ragione al Comune di Ariano. Dunque se ne riparlerà tra più di un anno, intanto in vari punti della città sono comparsi grandi manifesti per ribadire il no al mega impianto. L'iniziativa è del Comitato di tutela ed in particolare dell'ambientalista Anselmo Lamanna, che dopo le tante battaglie contro le discariche ed altre vicende negative legate allo smaltimento dei rifiuti, si è fatto portavoce del dissenso popolare. Amore? Prendere la multa in coppia? Commenta così e ci ride su la professionista di Mirabella, che ieri mattina nel corso del mercato settimanale di Grotta Minarda si è beccata una multa per divieto di sosta, quasi in contemporanea con il marito, anche lui un professionista, che aveva parcheggiato nei pressi della fermata dei Pullman per recarsi a Napoli con i mezzi pubblici. 28 euro ciascuno se pagano entro cinque giorni, se no si arriva a 41 per un totale di 82 euro. La domanda che si è posta alla coppia sfortunata e molti altri automobilisti che non hanno fatto caso alla nuova segnaletica e che quindi ieri hanno subito la stessa sorte è da dove sono sbucati tutti questi divieti che prima non c'erano? Risponde il comandante della Polizia Municipale, Luigi Morelli, al quale siamo andati a chiedere lo sconto famiglia per la coppia di Mirabella. Comandante, ma è possibile fare uno sconto a questa coppia multata? Beh, lo sconto già c'è veramente e se si paga entro cinque giorni dalla data dell'infrazione c'è già uno sconto del 30%, quindi è uno sconto già che la legge consente, quindi non c'è bisogno di farne, di crearne, quindi è automatico. Quindi lo sconto già esiste. Scherzi a parte, con questi lavori a Grotta Minarda bisogna stare un po' più attenti perché è cambiato il piano traffico, quindi ci sono divieti in più, un po' di parcheggio in meno e quindi fare attenzione, consigliamo di fare attenzione ai segnali che indicano il divieto di sosta e altri divieti. Indubbiamente una maggiore attenzione per chi viene a Grotta Minarda in questi giorni, credo che per qualche mese ancora vige una segnaletica di emergenza, chiamiamola così, di emergenza perché il Paese è bloccato da lavori in corso che si svolgono proprio all'interno del centro abitato. Quindi chiaramente chi viene a Grotta Minarda trova un insieme di segnali, un insieme di deviazioni che ovviamente portano a una maggiore diligenza, una maggiore attenzione e poi soprattutto il lunedì durante il mercato settimanale. Forse Bocconi avvelenati a Melito. Bella era una cagnolina randagia dolcissima, aveva partorito sei cuccioli. Era stata accudita da una volontaria dell'ASPA, Giulia De Simone, che era riuscita a dare in adozione i quattro cuccioli sopravvissuti ed aveva trovato una famiglia anche per lei. Martedì l'avrebbe portata presso il centro ASL di Monteforte Erpino per la sterilizzazione, dopodiché l'avrebbe affidata alla sua nuova famiglia. Ma nel frattempo è successo il peggio. Bella è stata trovata morta sull'asfalto all'ingresso del paese insieme a due gattini. Molto probabilmente sono stati avvelenati. Saranno gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico a stabilirlo. Inizialmente infatti le carcasse erano state rimosse dagli spazzini, ma presa la notizia la volontaria aveva chiesto l'intervento del veterinario dell'ASL che, constatata la situazione e i dubbi sul decesso, ne ha disposto il trasferimento a portici per la necroscopia. Grande dolore per Giulia che, così come fanno tanti altri volontari, quasi quotidianamente toglie dalla strada cani e cuccioli abbandonati, trovando sempre una soluzione di affinamento, spesso facendoli anche sterilizzare, evitando che finiscano nei canili e, diciamolo pure, facendo risparmiare molti soldi ai comuni che pagano per tenere i randaggi nel canile. Se l'avessi portata prima a sterilizzare, forse adesso Bella sarebbe ancora viva, dice con rammarico Giulia e aggiunge, se c'è qualcuno ammelito dal cuore così duro da distribuire bocconi abbelenati, dovrà portarsi sulla coscienza la morte di questi animali. Erba alta sulla rotatoria e lungo la variante Anas di Grotta Minarda, visibilità ridotta, a rischio la viabilità. 36 milioni di euro per realizzarla in tempi record, 6 chilometri a scorrimento veloce per decongestionare il traffico nel paese, ma soprattutto per tagliare le distanze verso l'A16. Tre viadotti, una galleria artificiale, tre rotatorie e cinque sottopassi, un'opera imponente ed utile, inaugurata nel 2016, ma in questo periodo decisamente pericolosa. Il mancato intervento di sfalcio dell'erba da parte dell'Anas mette a rischio gli automobilisti che la percorrono, per non parlare del pericolo incendi, per la mancata osservanza della fascia di rispetto. Erba altissima lungo tutto il tragitto, tanto da coprire in alcuni casi la segnaletica e i paletti catarifrangenti. Anche la rotatoria di Fontana del Retra, a passo di Mirabella e Grotta Minarda versa nell'Incuria, tra erbacce e fiori spontanei, vi è addirittura cresciuto il foraggio. Dunque automobilisti e residenti auspicano un intervento immediato prima che si verifichi qualche incidente. Un altro gatto abbelenato. In pochi giorni siamo già a quattro qui a Melito. C'è preoccupazione che ci possano essere altri bocconi abbelenati in giro? Sì, è successo anche negli anni passati, anche l'anno scorso. È probabile che ci siano in giro o per una questione di pulizia delle proprie terre, delle proprie tenute, oppure per magari allontanare qualche piccolo cucciolo che cerca ristoro, un po' di fresco. È probabile, però. Lei ha un cane, quindi è preoccupata? Sì, ne ho due, sì, sono abbastanza preoccupata. Cerco disperatamente di tenerli nella mia proprietà e di non farli uscire. Ieri sera ho trovato il gatto praticamente morto davanti casa e questa non è stata né la prima, né non sarà sicuramente l'ultima a Melito Irpino. Non lo so che cosa vogliono da questi gatti, da questi animali e non capisco proprio la crudeltà dell'avvelenamento. Ma lo scopriremo tutto. È vergognoso chi l'ha fatto. C'è vero vergognato. Se non rispetto l'animale, figura degli cristiani. Tra l'altro ammazzare un animale è reato, non si scherza. È gravissimo. Ci volevano solo del gastro. Nel gastro ci sarà vero. Peccato a voi, non è stavolta. E questo è lo sbaglio che fanno. E poi se ci sono veramente dei bocconi avvelenati in giro potrebbero morire altri animali. È vero, sì. Non si può fare la verità proprio. Un luogo simbolo per sostare, riposare, riflettere. Un monumento in pietra in ricordo di Giuseppe, giovane di Frigento scomparso in un incidente in moto giusto un anno fa in località Fiumarelle, dedicato a tutti i motociclisti vittime della strada affinché custodisca le loro anime. Motolito si chiama l'opera, realizzata dallo scultore Egidio Giovanna in Breccia Irpina. L'iniziativa è di un gruppo di amici amanti della moto che insieme alla famiglia di Giuseppe e con il sostegno dell'amministrazione comunale di Grotta Minarda hanno voluto portare avanti questo progetto in contrada ruvitiello, nei pressi della rotatoria della SS90. Tutto pronto per l'inaugurazione. È un'iniziativa che noi abbiamo diciamo coltivata insieme a Gemi, che lui ce l'aveva già da molto tempo. Noi abbiamo dato lo spunto, però comunque tutti i ragazzi, c'è stata una mobilitazione da tutti indifferente. Poi lo scultore ci ha messo l'anima. Noi abbiamo fatto questa scultura, soprattutto abbiamo voluto che c'è l'acqua, c'è la corrente, per cui uno si ferma, fa una riflessione, fa una preghiera, può anche rinfrescarsi. Questa è la cosa che abbiamo voluto. Sembra che per il nostro piccolo quel poco che potevamo fare l'abbiamo fatto. Una sorta di punto di ristoro. È passato un anno da quando suo figlio non c'è più, il dolore è sempre immenso. Il dolore è sempre più forte. Purtroppo la mancanza fisica si sente molto, anche se noi lo sentiamo sempre vicino. L'amministrazione comunale di Grotta Minarda ha offerto l'area per questa bella iniziativa. Daremo tutti i motociclisti che vengano a visitare il monumento. Daremo tutti i conforti che possono aver bisogno. Bisogna complimentarmi con gli organizzatori che veramente ci hanno messo soldi, volontà e conveniente. L'amministrazione comunale non ha fatto mancare tutto ciò che ci voleva, autorizzazione e così via. E praticamente auguriamo che questo monumento aiuta un po' ai genitori di queste ragazze a poter vivere. Grazie a tutti. Grazie.